Namaskar Ansad Guru. Ho una domanda sulla grazia. Non sono sicuro di come formularla, ma... Riguardo cosa? La grazia. La grazia. Sì. A me sembra essere una specie di cosa accidentale, nel senso, va e viene a seconda di... Non so cosa, veramente. Sembra che io la perda molto facilmente una volta che è qui. Mi chiedevo se potresti parlare un po' della grazia e di come funziona. Qui in ashram è molto facile accedervi o sentirla, ma una volta che vai fuori è piuttosto difficile essere connesso a quell'energia o alla grazia. Se potessi dire qualcosa a riguardo... Grazie. Mi stai chiedendo di parlare della fragranza di questo fiore. Come farlo? Solo se hai un naso sensibile? È un naso sensibile. Fantastico. Altrimenti qualcuno ha il naso chiuso oggi. Non significa niente. Quindi... La grazia non significa niente per molte persone. Neanche... Non è che tu debba pensarci o debba parlarne. È solo che... Se sei troppo pieno di te stesso... Solo se sei troppo pieno di te stesso... Puoi essere inconsapevole della grazia. Nel senso... Non devi nemmeno andare a scuola... E conoscere i pianeti... E il sistema solare... Le galassie... E cose del genere. Semplicemente... In quanto essere umano... Se guardi in su... Non sai dove questo inizi... Dove finisca... In mezzo al nulla. Sei qui seduto su un pianeta che orbita... E vedi... Stai bene. Decisamente... Non opera tua. Non è così. Decisamente tu non puoi farlo. Qualunque cosa tenga su tutto questo. Un titolo per questo. Grazia. Ora... Se tu sia disponibile o meno... È la questione. Quando diciamo grazia... Non stiamo osservando un certo tipo. Stiamo osservando ciò che è la base... Di ogni cosa. Perché non sai come questo sistema solare... Si è mantenuto in posizione. Non sai... Come l'intero universo... Si è mantenuto in posizione. Non sai nemmeno come tu sia accaduto... In realtà. In che modo così tante cellule stanno insieme... E fanno accadere la tua vita. Non lo sai in realtà. Hai spiegazioni... Spiegazioni... Ma non lo sai. Se lo sapessi... Ne creeresti una adesso. Se sapessimo esattamente come... Lo faremmo. Non è così. Quindi... Quando c'è così tanto che non sai... Ogni cosa accade ancora alla grande. Ovviamente... Non è un caso. Quindi qualunque cosa faccia accadere... Tutto questo... Quell'energia... Quella forza... La chiamiamo grazia. Ma ora la questione è di rendere... Te stesso disponibile. Se hai il naso chiuso... Il fiore non significa nulla per te. Se sei cieco... La luce non significa niente per te. Se sei insensibile... Nulla significa niente per te. Quindi... È questione di diventare sensibili. La maggior parte delle persone... È sensibile nell'ego. Non è sensibile... Alla vita. Al momento... Devi essere cauto... Su cosa dire... E cosa non dire... A un gran numero di persone... Perché sono terribilmente sensibili nell'ego. Per ogni cosa... Collasseranno dentro se stessi. Innanzitutto... Crei un'illusione. Poi crei... Un'altra illusione... Che questo cada... E si rialzi. È un pessimo gioco. Devi essere disilluso presto. Se sei davvero disilluso... Assolutamente. Sarai sempre disponibile alla grazia. Se non hai alcuna illusione di tuo... Ti farai domande su ogni cosa. Come puoi non farti domande su ogni cosa? Sulla tua stessa esistenza. Se non hai conclusioni nella tua mente su nulla... Semplicemente qui... Sarai intriso di grazia. Anche adesso lo sei. Ma non puoi godertelo... A meno che tu non sia consapevole. Tutto qui. Non funzionerà per te. Perché non sei consapevole. Sta funzionando per te. Ma non ne puoi ancora trarre pienamente beneficio. Vedi? È un fatto. Un fatto accertato dalla medicina. Se due persone mangiano lo stesso cibo... Non riceveranno entrambi lo stesso nutrimento. Proprio lo stesso cibo. Due persone lo mangiano. Non riceveranno lo stesso livello di nutrimento. Perché dipende... Dalla tua capacità di trarne sostentamento. Quindi, sviluppare questa capacità... Tutti noi siamo nella grazia. Ma sviluppare la capacità di trarre sostentamento da essa... Affinché questa vita diventi un'espressione di quella grazia. Vedi? Se hai annusato questo fiore... Questo è tipico dell'India del Sud. Profumato in modo fenomenale. Pensi che il nostro reparto giardinaggio versi fragranza sulle radici? No. Ci mettono delle tame. Credimi. Sì. Anche se metti delle tame. Guarda quanto è fantastico è diventato... Perché questa è la sua natura. Siccome fa questo... Piantiamo l'albero. Lo nutriamo. Ce ne prendiamo cura. Tutti si preoccupano di come cresce. Supponi che emani un odore sgradevole per te. Supponi che prenda semplicemente il letame e butti fuori il letame attraverso il fiore. No, l'avremmo tolto. Non è così. Quindi... La grazia porta molti benefici. Una volta che emani grazia... Tutti vogliono nutrirla. Tutti vogliono promuoverla. Tutti vogliono farne parte. Perché emani grazia. Ora, la questione non è affatto se tu sia nella grazia o meno. Lo sei. Altrimenti non puoi esistere. La questione è solo se trasudi grazia. Oppure la trasformi in qualcosa di brutto e lo riversi su tutti. Lascia che ti racconti una storia molto conosciuta in India. È folclore. Quasi tutti nel paese dovrebbero conoscere questa storia, probabilmente. C'era un saggio che viveva in una giungla. Non vedente. Non ha la vista. Semplicemente sta seduto in un posto. Ma raramente le persone passano da quella parte. Quando passano da quella parte, gli danno qualcosa. E lui ne vive. Non ha vista. Un giorno accadde che il re e il suo seguito di soldati e ministri, e qualsivoglia, andarono tutti a caccia. Durante la caccia, inseguendo un cervo, un cervo maculato, persero il cammino. E il re si perse. Fu separato dal gruppo. Perché sai, il re ha il cavallo più veloce. Monta è il migliore. Quindi andò via. davanti a loro. E si perse. Stavano tutti cercando, cercando. Si persero tutti. Poi, il soldato arrivò e chiese al saggio. Hai visto il re? Lui disse no. Poi, un comandante arrivò e chiese, hai visto? Lui disse no. Poi il ministro arrivò e chiese, hai visto? No. Poi arrivò il re in persona lì. Allora il saggio cieco riconobbe immediatamente che era il re. Oh, la tua gente ti sta cercando. Prima è venuto il tuo soldato, poi è venuto il tuo comandante, poi è venuto il tuo ministro. Il re osservò e vide che la persona era cieca. Allora chiese, Oh, essere divino, come fai a sapere che prima era un soldato, poi il comandante, poi il ministro. Il saggio disse, ebbene, il primo che è venuto ha detto, ehi cieco, hai visto il nostro re venire qui? È venuto qualcuno da questa parte? Quindi sapevo che doveva essere il tuo soldato. Il secondo parlava con autorità. Ma senza rispetto. Sapevo che doveva essere uno dei tuoi ufficiali. Il terzo è venuto il ministro. Parlava con grande rispetto. Quindi ho pensato che dovesse essere il tuo ministro. Ora sei venuto tu. Ora mi tocchi i piedi e mi chiami il divino. Devi essere il re. Che tu mangi il cibo, o respiri, o beva acqua, qualsiasi cosa, è grazia. Altrimenti come? Due parti di idrogeno e una parte di ossigeno diventano acqua, fonte di vita. Questa è grazia. Ok, puoi dargli una spiegazione. Ma non sai perché questo dovrebbe accadere. Non è così? Tutto quello che sta accadendo è grazia. Ora bevi questo, o mangi questo, o respiri questo. Emanerai anche grazia. siccome hai assorbito grazia. Siccome hai assorbito grazia, devi anche concepire la grazia ed emanare grazia. Non è così. Ma sfortunatamente, la gente assume cose fantastiche dentro di sé, le trasforma in brutte assurdità e le butta fuori. Ma guarda l'albero. Gli dai letame, emana fragranza. È ora. Se impari la via dell'albero, se impari la via della roccia, emanerai grazia. Quindi la questione non è se tu sia nella grazia o meno. Decisamente, ogni creatura è nella grazia. Sei in grado di emanare la grazia che assorbi? Questa è la domanda. Questa è la domanda.